Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, oggi vi faremo un video su come fare i Musical.ly Allora, vi insegneremo anche vari trucchetti, iniziamo. Allora, sui Musical.ly ci sono vari tipi... Aspettate... Vi inizio a cadere il telefono. Ecco, allora ci sono vari tipi come fare i Musical.ly, ad esempio. C'è Epico che vi fa il video quando lo registrate velocissimo e poi quando al sempre volete pubblicarlo e lo vedete è lentissimo. Poi c'è Lento che quando riprendete è veloce e poi il video vi verrà lento. Poi c'è Normale che è la canzone normale e poi c'è Veloce che quando lo riprendete è lento e poi è Veloce e l'Ips quando lo riprendete è lentissimo e poi è velocissimo. Allora, innanzitutto inizieremo con insegnarvi vari trucchetti. Ad esempio, inizierò con quello spostare il telefono, come spostare il telefono. Allora, vi faremo prima un video e poi vi insegnerò come farlo. Allora, la canzone sarà questa. E canzone serviranno per ascoltarmi di te Siamo tre tre Allora il video Aspettate di scarica Aspettiamo Si vuole caricare la linea Aspettate Ecco Aspettiamo Si si Poi va così Non è venuto tanto bene Perché abbiamo stoppato troppo a lungo E non abbiamo girato Vabbè Capito Poi vi volevo dire un'altra cosa Quando fate i musicali Non lo tenete troppo vicino Perché Cioè Lontano Che vi potete vedere Potete bene muovere il telefono Gesticolare E tutto Allora Questo effetto In pratica Si fa così Voglio mettere il telefono Sotto carica Perché scarico E lo levo soltanto Quando facciamo i musicali Allora Non perché Ecco qua Allora Poi Allora Questo trucchetto In pratica Si fa così Dovete Come spostare il telefono Ad esempio Così E poi Dopo un secondo Spostate il telefono Non dovete spostare insieme Perché comunque Dopo Non si vede Cioè Come vi devo spiegare Non si vede Bene l'effetto Invece Spostate prima la mano E poi fate così E poi riprendete di qua E ci siete due Ora Ad esempio Ve lo provo per due volte Riprendo di qua Riprendo di qua In pratica è facile Ecco Perché l'ho fatto Le canzoni serviranno Per ascoltarmi Le canzoni serviranno Per ascoltarmi E bravo Spero che Vi sono stata chiara Se non vi sono stata chiara Scrivetemelo giù Nei commenti Nell'info box Allora Poi Prendiamo un'altra canzone Poi Vi insegnerò Il twist Il twist È girare il telefono Così E poi Così Poi prenderlo E riprenderlo da qua E continuare Allora Prendiamo Prendiamo l'altra Prendiamo 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 Poi facciamo Così C'è Solo Per farvi vedere Il twist Perché Non Pronto Pronto Sei pronta? Ecco Ve lo rifaccio Per farvi vedere Aspettate che è venuta mia sorella non ci fate caso allora mi sono stoppata così allora io non sono questi i gesticolamenti che dovremmo fare però ora dovrei stare ore e ore per trovare una canzone giusta e non è il caso perché dopo chissà il video quanto dura e quindi faccio questi gesti così però non sarebbero questi gesti riparto da qua poi ho messo lento allora aspettate ve lo faccio vedere lo voglio vedere un attimo io questa è la cover mia è uguale a lei ve lo faccio rivedere un attimo aspettate questo è il twist ok allora in pratica il twist una cosa facilissima però cerchate di non far cadere il telefono allora in pratica il twist dovete girare il telefono così poi stoppate a questa posizione poi lo riprendete qui riprendete no aspetta così che giustamente però dovete prendere l'orizzontale poi se lo fate verticale così e li fate così sempre poi riprendete da qua e li fate così vi faccio vedere facciamo la prova stava lento ho stoppato ora mantengo così riprendo ve lo faccio vedere vi faccio vedere come ad esempio buttare il telefono giù e riprenderlo poi dalla testa vabbè non ci pensate allora ad esempio così e poi riprendere da qua e fare così è una cosa facilissima ma anche bellissima allora prendo un attimo la canzone e riprendiamo il telefono come si chiama il video il video ora vi faccio vedere però si dovrebbe fare di così lo faccio un attimo da sola ok in verità qui si dovrebbe fare lontano quello che vi ho fatto vedere prima però non l'ho trovata poi io volevo dire un'altra cosa quando fate volete mettere la cosa lenta rimanete sempre così nella posizione che stavate prima che stavate perché sennò dopo si era brutto lo faccio un attimo allora sto così allora non so se è venuto tanto bene ma non me lo vedo perché mi scuccio e in pratica è un big si fa così in pratica con la mano fate così abbassate con il telefono non era come questo qua no abbassate direttamente sia a telefono che in mano lo stoppate e poi lo riprendete da qua oppure potete fare anche da qua che poi lo abbassate cioè o lo fate da qua oppure potete fare che lo alzate cioè lo riprendete da qua e poi fate così poi vi farò vedere l'ultimo l'ultimo trucchetto perché tra un po' il video sul telefono non me lo fa durare assai quindi come dobbiamo dire non fa durarlo assai quindi dopo si spegne e rimaniamo il telefono a metà il video a metà quindi la prossima settimana vi faremo se possiamo se ce la potremmo fare o se abbiamo tempo un altro video va bene ora vi facciamo l'ultimo trucchetto ecco allora lo faccio un attimo da sola perché anche questo si deve fare in mestiale ecco ecco un posto no ho sbagliato non fate il caso non so non fa ma so che c'è un posto per me perché non me la so senza poi poi dopo vabbè è facile ve lo posso dire anche a voi se non vi farlo quando fate ad esempio love il cuore e la mano non devi andare il telefono non devi andare con la mano no era l'inizio aspettate ora li fa non l'ho affatto vedere vabbè capiate allora poi ci volevo dire che quando fate il love la mano non deve andare con il dito ma deve fare quell'altro mezzo pure poi anche quando fate ti 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 tipo quello là ti 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 oppure ti 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 dovete muovere leggermente il telefono facendo così poi ci stanno cose che dovete fare tipo uno scatto al telefono ad esempio tenete un po' più molla la mano così al cellulare e riprendete il telefono no deve tenere molla la mano ma anche il cellulare dovete fare uno scatto così come cioè mi avete capito no così perché stanno in altre canzoni che stanno quattantici minuti che stanno che stanno va non ti ride vabbè questo era il nostro video su come fare i musical se vi è piaciuto metteteci tanti 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 like vogliamo almeno mille duemila like perché non me ne chiediamo tanti perché comunque è il nostro primo video e non possiamo chiedere tanti like se arriviamo almeno a questo numero di like di mi piaci mi piace sì mi piace la stessa cosa la stessa cosa cioè faremo un altro video su come fare i musicali se non mi è stato tanto chiaro se non mi è stato chiaro una cosa qualcosa scrivetelo giù nell'info box cosa mi sta succedendo vabbè allora noi forse se arriviamo a questo numero di like ci vediamo al prossimo video alla prossima ciao